Parto, allora ieri è stata veramente una giornata molto difficile e anche molto bella perché il pubblico era veramente eccezionale. Nel finale penso che abbiamo fatto una buona gestione e ho provato anche diverse volte Fulsan, senza troppa fortuna, poi a un chilometro e mezzo così distinto ho provato io a fare un'azione molto buona da finissere ed è riuscita molto bene, quindi tappo e maglia, cosa si può volere di più. Sono molto contento. Ok.